A NXT Wesley ha rivelato di aver subito un gravissimo infortunio che lo terrà a lungo lontano dal ring. L'atleta tra le lacrime appoggiato ad una stampella ha detto di aver perso la sensibilità alle gambe e di faticare persino a stare in piedi. Per questo dovrà presto farsi operare con i tempi di recupero per ora incerti ma che alcuni siti americani azzardano a ridosso di un anno. Si tratta comunque di supposizioni visto che non è nemmeno chiaro dove Wes abbia riscontrato il problema che pare collocabile alla schiena. Il match che il combattente aveva in programma a deadline con Dominic è stato di conseguenza cancellato ma lo stallone latino dovrà comunque difendere la cintura di campione nordamericano durante quell'evento e lo farà contro Dragon Lee che ha ricevuto il benestare da Wes e che avrà come secondo al suo angolo re misterio di rientro dall'operazione al ginocchio.